musica che bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio specialissimo video io sono xyuder e ragazzi porca 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 le notizie le novità le figate che stanno arrivando in questa season non accennano a fermarsi ragazzi abbiamo visto così come un colpo di frusta come in questi due giorni si è uscito lo school trooper nel negozio e ragazzi arriva un'altra novità incredibile la troviamo direttamente nelle news di fortnite ragazzi guardate quad annientatore carica il potenziamento per passare attraverso le strutture e prendere un po' d'aria ma ragazzi la beta di fortnite è arrivata su android oh mio dio come leggiamo ragazzi beta android di fortnite battaglia reale ora disponibile su tutti i dispositivi android compatibili e ragazzi ci sono dei miei vecchi video ve ne preparerò un altro scarica da fortnite.com android quindi ragazzi mi raccomando andate a scaricarlo vedremo tutte queste news che arriveranno come una valanda di perfutezza noi ci vediamo in live ciao 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 ciao